Bene, buongiorno, buongiorno, ciao Marco. Buongiorno Antonio, buongiorno a te. Ah, chi l'avrebbe mai detto che avremmo avuto il tempo di studiare? Hai visto? Ci voleva il coronavirus. Sì, perché prima non avevamo mai studiato, giusto? Esattamente, ma oltretutto anche il tempo, certo. Bene, interessante come può alla fine è possibile trasformare una disgrazia in un'opportunità. Hai messo il tempo. Almeno proviamoci, no? Tu sai che ho lanciato la Nutrizione in Cucina Academy, quindi questa Academy di Nutrizione in Cucina, pochi giorni fa. L'Academy nasce per l'esigenza di formarsi, di continuare a formarsi su temi che, ahimè, circolano poco in rete, dovrebbero circolare un po' di più e sono i temi della Nutrizione in Cucina. Ma, insomma, a questo ci arriveremo. Io oggi intanto vorrei utilizzare questo tempo per avere un confronto con te e fare un po' una simulazione di quello che poi è il nostro lavoro. e quindi sarà una simulazione tra cuoco e nutrizionista. Quindi specifichiamo subito che tu sei il cuoco e io sono il nutrizionista. Brucia padelle, brucia padelle. Vincita da molti brucia padelle. Beh, sì, sì, sì. Conosco qualcuno che usa questo termine. E voilà, quindi, insomma, coronavirus, come cambierà il mondo della ristorazione? Io, prima cosa, mi soffermerei su capire, fare una sorta di stato dell'arto, cioè capire dove siamo e dove possiamo andare. Ora chiedo a te, secondo te, hai sicuramente molto più esperienza di me nell'ambito della ristorazione, e chiedo a te, secondo te, in questa fase, in questo momento storico, molto particolare, che cosa può succedere? Cosa ti aspetti? Cosa prevedi? Beh, sicuramente è un po' complicata la cosa, insomma, questo lo sappiamo, perché purtroppo ci sono delle retroscene che ancora non conosciamo, però sicuramente il settore della ristorazione sarà sensibilizzato nel prossimo futuro e questo perché, perché ovviamente cambiando le abitudini alimentari, perché probabilmente si è fatta molta più attenzione a tante cose ormai di recente uscite, sicuramente il mondo della ristorazione andrà in una direzione, che sarà quella di mantenere quanto più possibile il cibo integro e quindi bisognerà poi, diciamo, in questo contesto cercare di inviare un messaggio ben preciso a tutti i cuochi, a tutti gli chef, nel dover iniziare ad applicare al meglio le tecniche anche lasciate da parte negli anni per dare spazio ad altro, a un po' di palcosceni, questo lo conosciamo, ne abbiamo già parlato anche in differenti sedute, insomma, quindi... Differenti video anche, come quello sui cuochi, anche in differenti video, come quello per esempio sui cuochi fanno gli addominali, che sta sui cuochi. Certo, certo. Quindi tu sei già arrivato al consumatore, ma io ti fermo un secondo perché voglio tornare proprio ai ristoratori, a questa categoria che sicuramente si trova in un momento di difficoltà, la maggior parte delle attività sono chiuse e non sappiamo ancora quando potranno riaprire. secondo te in questo momento ci sono degli escamotage che i ristoratori possono mettere in atto per non gettare il cibo che hanno, per esempio, dei suggerimenti sulla conservazione magari di tutto quello che era stoccato nei frigoriferi, nei surgelatori, nei congelatori? Sicuramente, sicuramente sì, io credo che ormai la comunicazione degli ultimi anni, per quanto ne abbiamo fatta, comunque continueremo a farla, intanto sono i mezzi tecnologici che devono essere inseriti nelle attività perché la tecnologia è sicuramente il futuro della ristorazione, come in tutti i settori, sta semplicemente aiutando noi operatori a migliorare le caratteristiche di quelle che sono di conservazione degli alimenti, quindi è chiaro che se io in una situazione del genere, e questo ne ho avuto modo anche io di farlo per le attività che seguo, praticamente tutto ciò che ovviamente era preparato, gran parte di quei prodotti sono stati stoccati da positivo al negativo, sono stati conservati ovviamente con le atmosfere di protezione perché ovviamente è l'unico sistema per mantenere quanto più integre possibile questi alimenti, è chiaro poi utilizzarli al momento debito della riapertura, certo ovviamente c'è sempre un lasso di tempo nella normativa attuale, di legge che prevede di consumare un cibo che sia congelato, fatto in casa, insomma sostanzialmente per mezzo di abbattitori, in un lasso di tempo che va dentro i quattro mesi dal momento che tu li hai congelati, che sono surgelati rapidamente. Quindi chi è arrivato pronto a questo momento, nel senso pronto, pronti, nessuno poteva essere pronto, ma nel senso con gli alimenti stoccati, magari sotto vuoto e abbattuti adeguatamente, oggi almeno non ha buttato quello che aveva già prodotto. Esatto, ha ottimizzato quelli che sono poi i suoi investimenti fatti a monte di questa pandemia sostanzialmente, ecco è stato, questo è il consiglio che io inizio a dare, inizio a dare, diciamo continuerò a dare ai ristoratori, investire su tecnologie e sulle tecniche, quindi formazione e informazione, questo è quello che è il futuro secondo me, la conoscenza ti porta poi a decidere e a valutare meglio tutti quelli che sono gli aspetti gestionali di un settore difficile, complesso e bellissimo, che è la ristorazione sostanzialmente. Senti, andiamo ad un altro punto, nel piano delle emergenze circa il 40% dei consumatori smette di comprare, frequentare o acquistare prodotti sensibili o comunque, diciamo, legati in un qualche modo alla tematica, in questo caso coronavirus, ma che potrebbe essere poi come è stato, anche SARS, Mucca-Paz, eccetera, eccetera. Quindi le persone in questi momenti, quando sono spaventati, smettono di acquistare questi prodotti che in un certo senso sono collegati, possono essere anche virtualmente collegati alla problematica pandemica. come prevedi? Ok, abbiamo visto il lato del produttore, ma hai un'idea, secondo te, su come i consumatori ritorneranno dentro i ristoranti? Saranno diversi? Saranno cambiati? Oppure, secondo te, lo scenario sarà sempre lo stesso? Allora, sicuramente, 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 da quello che, stando poi nel settore, in campo, tutti i santi giorni, è questo. Già le attenzioni del consumatore erano, negli anni, negli ultimi anni, cambiati, grazie a tutto un movimento mediatico che c'è stato negli ultimi ormai dieci anni. Sicuramente adesso è un po' più capillare. Probabilmente dopo questa pandemia ci sarà un approccio alla ristorazione un po' diverso, ma questo, diciamo, non lo diciamo noi, diciamo, cuochi e nutrizionisti. Lo dicono anche i maggiori esperti di scienziati, altri dottori, il capo, sanitario, eccetera, eccetera, i quali ci dicono proprio che cambieranno queste abitudini. Probabilmente già era in atto questa cosa, perché le abitudini già sono cambiate a diverso tempo. In meglio, fortunatamente, perché c'è più conoscenza. Probabilmente però in questa, diciamo, prima fase post-coronavirus, sicuramente l'approccio sarà ben diverso. La gente porterà molta più attenzione a quelli che sono i cibi presentati nel piatto proprio dal fornitore, ecco, dal ristoratore. Quindi ci sarà ancora più richiesta di attenzione, di modalità di cottura e di conservazione. Quindi sicuramente se andrà alla tendenza sarà proprio quella di una cucina ancora più controllata, quindi ancora più salutare, se possibile dire. Comunque verso la ricerca del salutare. Verso la ricerca del salutare, certo. Questo sicuramente è il futuro, ma stiamo andando in quella direzione da qualche anno, ma sicuramente questa fase pandemica è stata un acceleratore e sarà un acceleratore per questo tipo di segmento appena sarà finita, che ci daranno la possibilità, ecco, di rientrare nei nostri cucini. Sì, diciamo che quello che penso anch'io è che in questo momento il consumatore a casa è esposto ad una riflessione quotidiana, quella sulla salute. Perché i numeri hanno chiaramente, relativamente a questa pandemia, hanno chiaramente dimostrato che le persone più sensibili, quindi che non godono di ottima salute, sono più facilmente attaccabili dal virus. Quindi comunque anche in questo caso, come il ristoratore può, tra virgolette, arrivare pronto, perché ha studiato come stoccare esattamente, ha stoccato esattamente e in maniera adeguata tutti gli alimenti, adesso noi possiamo pensare di occuparci della nostra salute, arrivando pronti anche al prossimo inverno, o al prossimo virus, o al prossimo pandemia. pandemia. Quindi per arrivare pronti, che cosa bisogna fare? Bisogna sicuramente lavorare sul sistema immunitario, quindi l'alimentazione è ovviamente il fulcro sempre di tutto questo, anche l'attività fisica, ma l'alimentazione nel caso del microbiota intestinale, quindi di questo ammasso di microorganismi che vive nel nostro intestino, sostanzialmente, immaginiamoci, io nel libro che ho scritto 2017, a tavola già tardi, ho definito questo microbiota, questo ammasso di microorganismi come dei micro commensali, cioè mi piace immaginarmi questa idea di questi microorganismi che si siedono a tavola con noi tutti i giorni, quindi immaginate questa tavola imbandita e questi milioni di miliardi di microorganismi tutti seduti insieme a noi e tutti i camerieri che gli portano da mangiare. Da mangiare. E quindi adesso la nostra attenzione non può essere che rivolta giustamente al benessere e alla salute, forse ci deve servire anche un po' come monito, cioè diamoci una svegliata, non è che possiamo pensare di essere immortali, c'è un po' di delito di onnipotenza in questo senso, secondo me, dell'uomo, e questa lezione coronavirus che è anche, secondo me, è una lezione psicologica perché è stato un bel training mentale, ritornare alla salute utile. Tutte le presunzioni ti ha fatto capire che oggi siamo molto vulnerabili. Esatto. Quindi, a prescindere da tutto, quindi dal problema coronavirus, secondo me l'investimento dovremmo comunque farlo a prescindere, e secondo queste riflessioni, se vince, almeno per quanto mi riguarda, mi auguro che tu possa essere d'accordo con me, ma ne sono certo, una necessità di formarsi, di formarsi intanto come persona, in primis, perché poi il coronavirus impatta essenzialmente, prima di tutto, sulla persona, sul singolo, per poi impattare ovviamente sulla società, no? Si parla del paziente zero, nel senso il primo, poi è ovvio che c'è una conseguenza, è un effetto a catena, no? A cascata, e su questo ambito della formazione io personalmente ci vedo una grande opportunità e la vedo proprio in questo momento, perché avere il tempo, per esempio, come stiamo facendo noi, di riflettere, di contaminarci anche con le nostre informazioni, con la nostra formazione, non è proprio semplice poi, perché quando iniziamo a lavorare, poi siamo costretti a ritmi asfissianti, e non abbiamo il tempo di studiare, di leggere, o di guardare magari un videocorso. Quindi come valuti questo momento? Cioè, se tu fossi un cuoco, se tu fossi un cuoco in questa fase, come investiresti il tuo tempo? Beh, sicuramente, quello che dicevo prima, Antonio, cioè mi ricollego sempre al discorso di informarsi per essere formati in un secondo momento, in una fase post-pandemica, come dicevo prima. Sostanzialmente, per quanto mi riguarda, io ho sempre fatto formazione e mi sono sempre formato su me stesso, anche nei momenti in cui non lo ritenevo opportuno, perché poi alla fine mi sono sempre tornati utili queste nozioni tecniche che poi ho ricevuto da chi ne sapeva più di me, un investimento senza valore sostanzialmente impagabile, perché in una fase come questa tutte le persone, tutti i ristoratori che io seguo come consulente, con i quali abbiamo impostato un lavoro del tipo, come dicevamo prima, di conservazione, basato su un certo tipo di cottura, su un certo tipo di conservazione, quindi degli alimenti, ha fatto sì che queste persone avessero adesso centinaia di euro, anzi migliaia di euro stoccati nei frigoriferi senza nessun tipo di problema. Questo è un fattore. L'altro è quello di poi gestire il modo di cucinare in maniera completamente differente da quella che si è approcciato fino ad oggi. Quindi sostanzialmente è questo. insomma, come cuoco dico sempre, cerchiamo di vedere al di là del nostro naso e di quella che è la tradizione, perché c'è un mondo che presto lo tireremo fuori, insomma, tireremo fuori, scopercheremo questa pentola e riscriveremo poi quelle che sono le vecchie tradizioni. Io vorrei chiudere con un ultimo punto, no? Perché formarsi online? No, è una riflessione che facevamo prima di registrare questo episodio zero di nutrizione in cucina scala. L'idea di formarsi online, ma perché? Intanto per l'esigenza, visto che in questo momento non possiamo muoverci, eccetera. E poi anche perché la cucina la cucina è anche teoria. C'è questo bruttissimo vizio di default di pensare che entro in cucina, prendo una padella, butto dell'olio dentro, uno spicchietto d'aglio e faccio il mio. Esatto. Un po' di guanciale, un po' di vino. Esatto. Sfumo un po'. Se poi andiamo invece a vedere come ne abbiamo visti, io ho lavorato con tanti cuochi, insomma, anche tu, andiamo ad entrare ed entriamo in queste cucine e ci rendiamo conto che prima di un'idea, prima di diventare piatto, è fatta di meeting e contro meeting. Anche già su come impiattarlo. Ora, a noi quello che ci interessa ritorno sul titolo del mio libro a tavola e già tardi è pensarci prima. Se io voglio portare a tavola uno gnocco con una crema di patate e gli asparagi, io devo pensare prima a queste cose come vanno cotte anche perché adesso aprirai anche tu una parentesi sulla linea di produzione. La linea di produzione deve essere qualcosa che mi aiuta ad avere un prodotto che accorcia i tempi del passaggio del piatto dalla cucina al tavolo. Certo. Ma non solo perché mi conviene accorciare i tempi ma anche perché più accorcio i tempi e meno sostanze devo utilizzare per conservarlo. Certo. E meno contaminazione microbica avrò, meno frigoriferi avrò bisogno magari, questo non lo so però ecco anche accorciare questi tempi significa ossidare poi vedremo nei episodi successivi che cosa significa ossidare di meno un prodotto e portare un prodotto più salutare e più salubre. Ecco quindi tu secondo la tua esperienza la parte teorica nella cucina che cosa che significato ha e che importanza ha? Beh proprio come hai detto tu è un dato fondamentale tant'è vero che tutte le lezioni che teniamo nelle varie scuole sono basate prettamente sulla teoria e poi dei piccoli esempi pratici o addirittura delle lezioni fatte apposta per andare un po' più nello specifico però è chiaro che prima di percorrere bisogna imparare a camminare diciamo che la parte teorica è un po' il cammino che ti conduce poi a quella che sarà la tua corsa futura in questo settore sostanzialmente senza di quello che è una grossa base e non puoi andare da nessuna parte quindi la teoria è fondamentale molto spesso i cuochi diciamo che fortunatamente ad oggi anche nel settore di cucina è cambiato molto l'approccio perché i cuochi sono più informati rispetto a quelli di 20 o 30 anni fa prima si entrava nelle cucine come dicevi tu prima si imparava a cucinare di default perché te lo insegnavano in quel modo bisognava far così quindi la esperienza era più piatti soffare poi come li faccio li faccio più piatti soffare più sono bravo questo è stato un po' il credo che negli anni poi si è sfatato facendo venire a galla in questo settore il mondo della parte teorica dove grazie alla scienza in cucina ci ha portato delle conoscenze che hanno distrutti quelli che erano i miti della tradizione e quindi convertendo anche i cuochi moderni ad un diciamo un concetto di cucina completamente diversa da quella che è stata fatta che si basa anche molto sulle teorie e sullo studio ecco questo è importante importante il corso un corso online sì lo trovo molto importante perché molto probabilmente tanti di noi soprattutto in questo settore hanno difficoltà a seguire un corso in una scuola in una in in una sala di mostrazioni quindi togliere 3-4 ore 5 ore al giorno a un a un lavoratore di questo un operatore di questo uno chef diventa un po' complicato allora diciamo il veicolo corso online ti potrebbe aiutare anche nei ritagli di tempo che tu puoi avere a casa in piccoli spot da 15-20 minuti e prendere quello che a te poi realmente serve cioè carpire in quel 15 minuti quello che ti serve in piccoli video spot che sono a volte anche ben strutturati quindi assolutamente sì ok noi ci diamo appuntamento a domani e insieme cosa faremo domani insieme e iniziamo questo percorso quindi facciamo una simulazione sì come se io e te entrassimo per la prima volta nella stessa cucina insieme in cucina cercando di di mettere insieme quelle che sono le nostre idee quindi le nostre competenze le nostre professionalità io come nutrizionista in cucina tu come cuoco e tecnologo alimentare per con l'obiettivo appunto di anticipare quello che sarà la richiesta dei consumatori quindi come deve muoversi la ristorazione come deve muoversi la ristorazione in modo tale da farsi trovare pronta quando tutto questo sarà finito e quando sarà finalmente nuovo l'ora di di riaprire di riaprire non anticipiamo niente su domani ma aspettiamo creiamo creiamo la creiamo le suspense le suspense esatto e e niente intanto per oggi ti saluto vediamo sentiamo domani così ci sentiamo domani ormai le giornate sono così trammettante lunghe che quasi pensare di vederti domani c'è una grossa c'è una grossa dilatazione del tempo poi adesso è cambiato anche l'orario sì l'ora legale quindi sono ancora più lunghi quindi ancora più tempo per formarsi esatto la mazza roccata però il capo e il collo va bene allora ci vediamo domani